Tempo fa ci fu una discussione a Guidonia qualche anno fa su Facebook e ci furono anche una diatriba su un gruppo che nacque e che diceva Guidonia fa schifo e fu chiuso mi sembra, mi sembra, fu chiuso comunque ci fu una discussione e qui siamo a Guidonia in effetti, vedete il casello di Guidonia guardate, eccolo qui, Guidonia A1, bretella, beh Guidonia non fa schifo però insomma certo questo non è decoroso come potete vedere, discariche a cielo aperto, amianto, di tutto, gomma, bruciata, anche recente ragazzi perché non è retorica, lì abbiamo rame, vedete, bruciato, rubato e bruciato evidentemente ma non è retorica ma si sente ancora l'odore quindi è roba fresca, qui abbiamo di tutto, questo fa veramente male ce lo respiriamo, qui ci sono campi coltivati, ecco stanno pure coltivando qui vicino, insomma immaginate la diossina che si evapora nel cielo e poi cade ovviamente e va a fertilizzare i terreni che poi noi, ecco lì c'è Tivoli, vedete Guidonia sotto, Colle Fiorito, abbiamo poi qui di lato la discarica che adesso si vede non si vede, insomma certo Guidonia non fa schifo però insomma questo sicuramente è uno schifo e questo fa parte di Guidonia, questo è un dato oggettivo che c'è poco da discutere insomma, abbiamo il sindaco agli arresti domiciliari, abbiamo situazioni gravi, assessori che vengono allontanati, dirigenti che insomma fanno delle nomine che vengono un attimo accese di polemica nomine da 100.000 euro l'anno, insomma vabbè questo fa parte anche della normale amministrazione però insomma sicuramente qui c'è da fare qualcosa, ecco al di là di tutto poi qui addirittura c'è un reperto anche di un certo livello, io non so se è proprio da privata non credo perché è completamente aperto, qui abbiamo una maschera scherica e fa pure lì abbiamo un bellissimo, vedete, che poi Guidonia veramente è bella, ha delle cose belle come questa vedete, anche quell'altro, guardate, queste torri, questi casali, molto molto belli, vedete che è un peccato che poi intorno abbiano questo schifo, quindi fa come, guardate, proprio discarica c'è l'aperto, ma poi voi non potete immaginare quello che c'è, quello che c'è sulla strada per arrivare qua e dopo non ve lo faremo immaginare, ve lo mostreremo con foto e video, guardate, 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 è veramente tanta tanta roba accia che andrebbe immediatamente pulita, non è che nascosta agli occhi dell'autostrada che passa, vedete, qui tra i rami, Guidonia Montecelio, significa che non esiste, questa è roba che esiste e che dà una cattiva immagine a Guidonia, perché Guidonia non è soltanto ciò che vediamo, ma anche ciò che a volte non vediamo, come questa zona, guardate lì cosa c'è, questa è plastica bruciata, non oso immaginare quello che c'è, ovviamente tutta questa robaccia va a finire nell'ambiente, abbiamo dei serbatoi, anche qui non oso immaginare quello che c'era dentro, va a finire nell'ambiente e qui intorno a confinanti, si coltiva, si coltiva, non so cosa sia, ma io qui si coltiva, giustamente un agricoltore coltiva la sua terra, non ha competenza qui, questa non credo sia proprietà sua, e quindi insomma qui c'è la discarica, ovviamente questo non deve accadere, non deve accadere e andiamo a documentare, passiamo alle foto, ecco sulla strada che abbiamo fatto, se ne vede un pezzettino, guardate, già da lontano si vedono la discarica qui al centro, comunque adesso torneremo indietro, questo primo pezzettino proprio per documentare questo scempio.